Noi abbiamo accolto l'invito di Leo molto volentieri perché quando si tratta di salutare degli ospiti ci piace essere presenti, ci piace mostrare la nostra faccia e dire le cose che sentiamo. Noi siamo un gruppo, nel Salento ce n'è parecchi di gruppi, tutti bravi, sicuramente più bravi di noi, noi non siamo un gruppo musicale bravo, siamo un gruppo che è molto ancorato alla tradizione, alla cultura tradizionale salentina, in quel senso lo diceva tranquillamente, serenamente, perché ciascuno a suo modo porta avanti, diciamo, la verità da parte che ha ricevuto da chi l'ha preceduto, così Mattia, così Maurizio, così Giuseppe e non sto qui a dirvi chi è che li ha preceduti perché è lo stesso e così anch'io. Poi ci sono i più giovani, c'è Maristella che comunque sono tanti anni che pazzica nei gruppi nostri. Alessandro è un neofito, è uno degli ultimi arrivati, viene da un'esperienza più mondiale, diciamo, e quindi ha fatto diversi generi musicali, poi adesso è approdato qui nella cultura salentina musicale. Io naturalmente, come sempre, sono senza voce, ma io non sono un cantante, mi freggio di essere un portatore della tradizione orale grida più che altro e poi all'occasione faccio anche qualcosa in diretto a romanzo, ci mancherebbe altro, sono un cantore, ecco, diciamo, però anche i cantori hanno bisogno di una voce, purtroppo, va bene, non fa niente. Noi cominceremo, io comincerei con un canto, il canto di questo a Lusanto Lazzaru lo lascerei per ultimo prima di introdurre i cantori di Martignano che canteranno poi i passiuli ad un cristù in grico. Invece adesso io vi accoglierei questi signori con un canto grico che si chiama Tela, si intitola Tela. È un canto con una serenata d'amore. Immaginatevi un ragazzotto sotto la finestra della sua amica della sua amata, un classico, che cantando le ricorda quando stavano insieme e con il suo grido Tela, che vuol dire vieni, la esorta a tornare da lui. Buon ascolto. Grazie. 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 Niente, adesso invece passerei a un canto...